Salve a tutti, oggi siamo qui con l'episodio conclusivo di G.I.B. Però c'è una domanda, farò l'ultimo di tutta la serie? Ebbene ragazzi, sono stato insente per moltissimo tempo su questa serie, ora però vorrei dirvi che è finalmente arrivato questo episodio finale per concludere questa seconda stagione. Adesso però non è arrivata completamente la fine, perché sì, sta per arrivare la terza stagione raga, a partire da questa primavera. Perché sono stato assente in questo tempo? Io in questo tempo sono stato assente perché ho perso completamente la voglia di allenarmi. Il problema appunto è personale, quindi non c'è nessun motivo in particolare per cui ho smesso, ma semplicemente avevo perso voglia di allenarmi. Come potete vedere, ovviamente ho perso, non tutto, non dico tutto perché ho provato a fare qualche serie alla panca piana e ho mantenuto abbastanza peso. Anzi a dire la verità ho perso solo 10 kg. Quindi nessun problema rispetto ai pesi, anzi dovrei recuperare anche molto facilmente. il vero punto è che quando uno perde la voglia di fare una cosa, raga, potete dire quello che volete, non riuscirà mai come dovrebbe riuscire. Perciò meglio finirla che continuare a cazzo. Comunque raga, non vi preoccupate perché questa serie la porterò avanti. Ho visto un notevole aumento delle visualizzazioni nella seconda stagione. Perciò voglio che nella terza stagione si ripeta questo risultato. Ci tengo moltissimo, raga. Detto questo, ci vediamo molto molto presto. Io non so adesso il momento preciso in cui uscirà la serie perché ci devo ancora lavorare su. Devo ancora cominciare a registrare il primo episodio, quindi raga, è molto lungo come percorso. Perché questa volta durerà un bel po' queste serie. La voglio far durare almeno molto più di quelle che sono durate queste passate. Insomma, invece di fare 40 episodi ne vorrò fare 80. Però sto dicendo un numero genetico, ovviamente, non sto dicendo un numero preciso. Però voglio fare 80 episodi però non fatti tanto così per farli, ma fatti proprio perfetti. Mettendo tutte le parti giuste nel video, facendole durare anche di più. Perché queste nelle scorse stagioni sono durati meno. Però il video è quello alla fine, cioè non gli posso fare niente. Ecco, io però voglio migliorare questa cosa e farli durare di più. Mettendo parti più avvingenti. Ecco, involgere di più il pubblico. Perché, raga, io adesso vi chiedo solo una cosa. Supportate questo video, supportatelo. Perché questa fine sarà il nuovo inizio. Detto questo, vi aspetto tutti con questa nuovissima stagione. Prossimamente, io adesso non so quando uscirà, vi ho appena detto. Però tenetevi aggiornati sulla pagina Instagram di MovieTubeTime e sulla pagina Instagram di JimMyStory. Nonché sulla mia pagina principale. Tutto qui in sovraversione oppure in descrizione nel link. Ragazzi, spero che questa serie vi piaccia. Concludiamo così, a malincuore, questa seconda stagione. Perché non era previsto questo finale, ovviamente. È tutta una cosa generica, non fatta apposta. Ve lo giuro, ve lo sicuro, perché non è una cosa fatta apposta. Ti volevo continuare. Avevo anche registrati molti altri episodi, però poi mi sono concentrato un po' su altro, diciamo. Arriveranno tantissime altre serie. Quindi, questa serie non sarà solo la principale del canale, ma ci saranno anche molte altre serie in questa estate, diciamo. Quest'estate esploderemo tutto, ragazzi. Dobbiamo crescere e arrivare molto in alto. Detto questo, penso di avervi detto tutto. Vi aspetto con le prossime serie, i prossimi episodi, raga. E ci vediamo soprattutto con questa terza stagione di GMS. Grazie. 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 Grazie.